Con Fabrizio Zappi volevamo fare una piccola breve ma spero illuminante chiacchierata sulla politica e sulle scelte di RaiDoc che è un argomento che credo stia molto a cuore a chi lavora in questo settore che è stato in parte anche anticipato perché come avete sentito lotta continua, il documentario, non il gruppo. Il documentario è stato appunto uno dei progetti che RaiDoc ha portato a termine che viene presentato qui questa sera e che poi va in onda. Però come già accennavi prima c'è una strategia, c'è una politica, ci sono delle direzioni sulle quali ti stai muovendo. Vuoi riassumere un momento per i nostri colleghi? Sì, ti ringrazio Steve per questa occasione di diffondere per quanto possibile questa progettualità e questo disegno che è partito dall'inizio di quest'anno grazie a questa trasformazione organizzativa che ha investito la Rai e di questa trasformazione secondo un modello per generi che ci aiuta a dare ulteriore riconoscibilità e quindi dignità al genere documentaristico nel quale appunto si scrive la creazione e il potenziamento di Rai documentari. I documentari in Rai sono storicamente prodotti da Rai Cinema per la circuitazione, la destinazione cinematografica. da molto minor tempo esiste appunto questa direzione che si prefigge di produrre, preacquistare, documentari, prodotti di genere documentaristico di vario formato per la destinazione televisiva, prettamente televisiva, cosa che storicamente in Rai avveniva sostanzialmente attraverso le formule dell'acquisto per lo più dall'estero cioè diciamo così, no? Perché poi i poli di produzione internazionale lo conosciamo, cioè al di là degli Stati Uniti soprattutto Francia e Inghilterra sono stati da sempre i player più importanti e dai quali anche Rai e insomma tutta l'offerta televisiva italiana era solita approvvigionarsi. Diciamo che adesso il tentativo è quello di non, come dire, subire più questo modello di approvvigionamento ma quello di offrire una proposta nazionale, domestica. Quindi la mia linea editoriale è quello di proporre in sintonia con questo obiettivo e con questo presupposto, proporre storie nazionali, storie che riflettano sulla nostra identità sulla storia del nostro paese, possibilmente sulla storia recente del nostro paese che è la cosa che si fa di meno anche a livello scolastico. Io vedo mio figlio ma ricordo io stesso si arrivava sempre alla prima guerra mondiale. C'è sempre l'inizio di Boris, il film, quando dice non si è ancora sanata la ferita delle guerre puniche. Esatto, non me lo ricordavo, ma è così. Mentalmente mi riferivo a questo appunto. Per cui invece facciamo un tentativo di rovesciare questo cono e partiamo dal nostro presente, dall'oggi, riflettiamo sull'oggi e per farlo in maniera approfondita e accurata guardiamo anche a quelle che sono, come dire, quelle istanze e quegli eventi che ci hanno condotto sin qui e in questo modo. E quindi chiaramente questo documentario è un esempio in qualche modo emblematico, ma ne abbiamo tanti su questa linea e posso incominciare dicendo a esporre un minimo della nostra offerta per esemplificare questi discorsi più teorici. Iniziamo adesso il 16 dicembre con un documentario di Walter Veltroni dal titolo Ora tocca a noi la storia di Piola Torre, sul dirigente del PC che fu trucidato dalla mafia 40 anni fa esatti, ricorre il corso quest'anno, il quarantesimo anniversario della sua morte e sarà appunto il 16 dicembre in prima serata su Rai 3, poi vi sarà un'interruzione per le festività natalizie e si riprenderà il 6 gennaio con un documentario dal titolo I Magnifici 4 della Risata dedicato ai nostri quattro grandi mattatori e attori che hanno rivoluzionato i codici della commedia cinematografica italiana negli anni Ottanta che, dico in ordine alfabetico, sono Benigni, Nuti, Troisi e Verdone con una lunga intervista a Verdone e altri contributi di grandi autori del nostro tempo che riflettono sulle modalità di questa appunto rivoluzione dei codici espressivi della commedia della comicità italiana che tanto ebbe successo e che è ancora successo poi e quindi partiamo con quello, poi avremo lotta continua, poi avremo altri appuntamenti sia biografici che più istituzionali legati anche alla giornata della memoria e la giornata del ricordo è del 10 febbraio, poi avremo altre biografie, Dario Fo, Lelio Luttasti che è stato presentato a Roma, anche Dario Fo è stato presentato alla festa del cinema di Roma e poi abbiamo uno che mi appassiona particolarmente non solo perché sono della provincia di Bologna su Alberto Tomba che credo potrà in qualche modo soddisfare le curiosità del nostro pubblico della tv generalista, ecco perché l'altro grande aspetto se vogliamo meno rivoluzionario ma comunque di novità innovativo è quello che ci rivolgiamo al pubblico della tv generalista della tv mainstream che è un pubblico molto largo ed eterogeneo spesso anche a volte indecifrabile nei suoi orientamenti ma che, come dire, non è abituato al codice espressivo del documentario classico e noi cerchiamo di affrontare questa sfida di andare in prima serata sulla tv sui nostri canali generalisti e mainstream con armati di molto entusiasmo sicuramente ma anche della convinzione che scegliendo gli argamenti giusti cioè quindi delle tematiche il più possibile interessanti per il pubblico di oggi e proponendo un discorso anche sul linguaggio del genere con delle formule innovative, ibridandolo con il ricorso all'animazione piuttosto che con sequenze di reenactment, di fiction lo stesso Veltrone ad esempio propone adesso su Piola Torre delle sequenze di reenactment dove si mette in scena l'infanzia, l'adolescenza e quindi l'epoca formativa del protagonista di cui ovviamente non esistono materiali di repertorio perché i materiali di repertorio colgono l'attività pubblica del protagonista stesso e quindi insomma cerchiamo di essere il più attuali possibile anche dal punto di vista del linguaggio oltre che della scelta degli argomenti Ecco, questo è molto interessante soprattutto diciamo la prima parte di quello che hai detto perché credo effettivamente che il documentario italiano per avere una possibilità di andare anche su un mercato straniero o estero debba avere le stesse caratteristiche che aveva il cinema italiano negli anni del suo massimo splendore cioè essere profondamente italiano perché Fellini era profondamente italiano perché Petri era profondamente italiano però poi appunto proprio per questa loro italianità che sapeva essere universale se c'è un tema universale proprio al Made in Italy diciamo in senso lato grazie a questa universalità poi vendevano in tutto il mondo vincevano i primi Oscar e così via quindi credo che sia almeno il mio giudizio personale credo che sia la strada giusta poi lasciamo se qualcuno ha delle domande volevo ancora chiederti se visto che ci sono delle reti dedicate un po' in tutta Europa che sono Artei, Story Channel le varie se in questa politica avete anche delle intenzioni o delle situazioni di coproduzione o comunque di intreccio con questi emittenti guarda sono stato proprio due settimane fa a Strasburgo da Arte per sviluppare dei progetti insieme abbiamo già fatto un accordo abbiamo firmato questo accordo proprio appunto a Strasburgo due settimane fa su un progetto molto importante che mi piace poi poterlo appunto annunciare qui per la prima volta su Italo Calvino di cui il prossimo fra l'altro che molto ha vissuto a Torino ieri abbiamo fatto un pranzo a casa sua davvero del festival ah vedi che bello ex casa sua non è più casa sua e perché il prossimo ottobre il prossimo mese di ottobre il 15 ottobre dell'anno prossimo sarà il centesimo anniversario della nascita di Italo Calvino e quindi abbiamo questo progetto da fare insieme ad Arte e da fare con la collaborazione della figlia Giovanna che si è resa disponibile e quindi insomma ero a Strasburgo per questo ma poi abbiamo già gettato le basi per tutta una serie di altre iniziative e per documentari su altri personaggi protagonisti della nostra storia della nostra vita culturale e del nostro spettacolo anche nel 24 sarà il centesimo anniversario della nascita di Mastroianni su cui sicuramente saremo coinvolti con un progetto e che interessa naturalmente ai francesi perché Mastroianni è molto amato anche lì e poi nel 24 sarà alla Bookmesse di Francoforte alla Fiera del Libro di Francoforte l'Italia sarà l'ospite principale e quindi Arte vuole dedicare tutta una collana di iniziative audiovisive agli scrittori italiani e quindi abbiamo ragionato su altri protagonisti da Elsa Morante Italo Svevo eccetera e Cursio Malaparte eccetera per cui per cui avremo tutta una serie di iniziative con loro di cui abbiamo gettato le basi appunto in queste settimane con France Television pure ho svolto diversi incontri abbiamo già due progetti di coproduzione italiana ecco perché quello che mi preme sottolineare è questo che rispetto al passato ho cercato di dare questo tipo di svolta cioè che le coproduzioni siano sia di origine straniera ma anche di origine italiana nello stesso numero e per lo stesso tipo di volume di investimenti per quanto possibile anche se i costi di documentari italiani sono notevolmente inferiori ai costi medi dei documentari inglesi francesi tedeschi eccetera eccetera perché il tipo di industria nazionale è diversa è un'industria fatta di piccole imprese è un'industria molto più frammentata con attori di dimensioni inferiori come dire rispetto alle grandi società di produzione straniere però al di là delle considerazioni di tipo economico ho cercato di svolgere un lavoro anche qui di pari dignità a livello editoriale per cui noi faremo delle coproduzioni con loro su storie non necessariamente italiane ma loro finanzieranno dei progetti dove i protagonisti sono italiani e questo anche insomma mi piace poterlo dire ecco è motivo di soddisfazione poterlo dire perché ci hanno ascoltato su queste basi credo che su questo avremo molto occasione di relazionarci anche per il prossimo anno ve lo annuncio così da te prima il festival vorrebbe fare proprio un lavoro è un momento di riflessione a livello internazionale proprio sul documentario d'archivio che credo sia quello fondamentale tra l'altro non so chi faccia Mastroianni ma di lui o lei che lo fa io ho trovato le pagelle di Mastroianni davvero lui ha fatto l'elementare allora verrai contattato ha preso 5 di matematica in secondo elementare quindi abbiamo uno scoop che possiamo renderci no no a parte gli scherzi non so se avete delle domande invece qualcuno non siete obbligati e quindi però forse qualche curiosità Antonello Catacchio è una cosa che non ho capito se acquisite anche dei documentari già realizzati oppure se li producete soltanto no noi li produciamo e coproduciamo però c'è una direzione che si occupa degli acquisti insomma lo dicevo perché qui durante il festival sono passati a mio modo di vedere dei documentari italiani estremamente interessanti che avrebbero pieno titolo e dignità per essere presentati anche su Rai 3 o comunque in qualche canale mi viene in mente quello dedicato a Piero Umigliani quello dedicato ad Achille Togliani quello è nostro ah ecco quello l'abbiamo comprodotto noi Achille Togliani sì sì Achille Togliani Parlami d'Amore che è stato presentato qui la scorsa settimana e è una produzione è una coproduzione con Rai Documentari che verrà mandata in onda venerdì prossimo il 9 dicembre su Rai 3 perché la ringrazio per la domanda che mi consente di ampliare quel ragionamento che facevo sugli appuntamenti seriali abbiamo anche una serie di appuntamenti non solo per la prima serata ma anche per il day time cioè quindi per il pomeriggio e per le seconde serate quindi per il pomeriggio abbiamo fatto questa collana di 15 ritratti l'abbiamo appunto chiamata ritratti perché erano tutti tutti dei biopic della durata di 52 minuti scusa della durata di 52 minuti e Parlami d'Amore il documentario su Achille Togliani si scrive appunto i contenuti in questa collana di appuntamenti e mentre invece per la seconda serata abbiamo sviluppato dei formati di docu-serie il primo dei quali andrà in onda durante le festività natalizie a partire dal 28 dicembre per sei seconde serate direi tre si chiama l'arte della felicità che appunto è un'occasione di riflessione su quelle che sono le emozioni vissute dai cittadini dagli italiani dopo la pandemia e quindi avranno questi sei titoli che sono già orientativi di quello che è il tipo di approccio del progetto sono amore rabbia felicità orgoglio tristezza e paura queste sono per cui sì anche insomma quello che diceva siamo già presenti in qualche modo ecco grazie paura e delirio altre domande se non c'è più niente credo che sia stata esauriente molto chiara e anche molto precisa anche molto interessante l'esposizione di quello che avverrà con i documentari io Fabrizio Zappi ti ringrazio ti ringrazio molto e ringrazio tutti voi per essere stati qua arrivederci grazie arrivederci grazie